Romina Power e Albano, la loro relazione sempre più intima, le nuove dichiarazioni. Albano Carrisi, intervistato dal giornale Il Mattino, parla del rapporto ritrovato con l'ex moglie Romina Power. Una relazione speciale ed intima, basata sulla fiducia e l'affiatamento. Le nuove dichiarazioni. Albano e Romina, sono una delle monumentali coppie del panorama musicale italiana. La loro canzone Felicità è una fit senza tempo, ed entrambi giacciono nel cuore degli italiani da tempo in memore. Albano Carrisi e l'ex moglie Romina Power, per la gioia di tutti i fan, sono tornati a cantare insieme e durante l'estate 2018 si sono esibiti in numerosi live, sia in Italia che all'estero. Questa ritrovata voglia di cantare insieme, ha riacceso negli ammiratori la speranza di rivederli uniti, e non solo come duo Canoro. D'altronde qualche giorno fa sono stati beccati insieme in quella che è stata definita una cena romantica. A lei è giunto anche un fascio di rose rosse, ma l'ugola d'oro di Cellino San Marco ci tiene a precisare alcune cose e l'ha fatto tramite un'intervista Il Mattino. Siamo andati a cena io, un mio amico e Romina col suo cane, poi, all'uscita, un ambulante pakistano mi ha offerto delle rose e gliele ho comprate. Come ovvio che fosse, le ho poi date a lei. Tutto qui, apriti cielo. Per i giornali è diventata. Cena romantica al ristorante giapponese, sorseggiando vino bianco. Si tratta dunque dell'ennesima voce non confermata. Tanto che Albano precisa come tra lui e l'ex moglie non ci sia alcun secondo fine sentimentale. Anche se recentemente sembra esserci stato un riavvicinamento tra Albano e Loredana Lecciso, i fan non smentono mai di sperare un ritorno di fiamma con Romina Power, ma l'ex coach di The Voice of Italy spegne ancora una volta gli entusiasmi, affermando di non essersi innamorato per la seconda volta dell'americana. All'inizio non mi fidavo. Ha deciso lei di starsene lontana per 18 anni, e lo scotto c'era. Però ho scoperto, con gioia, che fra noi c'era ancora un affiatamento eccezionale, come se niente fosse successo. Cantiamo, ci divertiamo, siamo diventati fratello e sorella. E va bene così. Insomma Albano e Romina Power, effettivamente hanno un rapporto speciale, intimo e molto particolare. Dopo la lontananza e l'assenza per 18 anni, lui l'ha perdonata e ha accettato con gioia di riformare il duo artistico, ma nulla di più. Albano e Romina sono come fratello e sorella, almeno per adesso.